Il peregrinare del Beato Angelo mi fa pensare alla storia della nostra vita, anche noi siamo pellegrini pur non avendo la meta di un sentiero, di un luogo particolare, tutta la nostra vita è un pellegrinaggio. Allora guardando il Beato Angelo nasce spontanea la domanda, verso dove sto andando? Che cosa sto cercando? Quale è la meta che mi sono proposto? Tutti facciamo esperienza della fatica, della confusione, oltre che del disorientamento e per non sprecare il nostro camminare dobbiamo ritornare sempre sulla strada giusta. Sono le parole del Vescovo della Diocesi di Spoleto Norcia e Presidente della CEU Monsignor Renato Boccardo nel corso dei Vespri, concelebrati dal Vescovo Diocesano Monsignor Domenico Sorrentino, insieme al Vescovo della Diocesi di Terni, in Arnia Melia, Monsignor Francesco Antonio Soddu, al Parroco Don Michele Zullato e al Clero Diocesano. Tanti i fedeli che hanno accompagnato in una lunghissima processione orante l'urna contenente e le spoglie del Beato Angelo per le vie di Gualdotadino, celebrata in occasione delle feste centenarie organizzate per il settecentesimo della morte del patrono e compatrono della Diocesi. Sentiamo il Vescovo e il Presidente del Comitato Organizzatore Carlo Catanossi. Dobbiamo stare attenti a non accontentarci di questi momenti celebrativi per quanto bellissimi, festosi e riusciti. Dobbiamo andare avanti e la fede che si ha perché si ha devozione per un santo non è detto che sia proprio la fede che Gesù si aspetta da noi. La fede che Gesù si aspetta è quella del Vangelo, quella del Vangelo conosciuto e vissuto, quello di una vita cristiana che ogni giorno si manifesta nella maniera di vivere, quello di una fede che si celebra nella liturgia e non una volta ogni tanto in qualche devozione. Dunque tutto bello, io sono davvero contento stasera ma mi aspetto che il popolo gualdese con questa unità, con questa determinazione e con questa gioia faccia un passo in avanti perché la fede e le famiglie non crollino sotto i colpi di una cultura che purtroppo non ci dà una mano e ci viene contro. C'erano le persone che si muovevano con la fede, con la speranza, con tanto affetto per questa città, per il proprio patrono, per il Beato Angelo per dimostrare questo affetto e questa partecipazione, questo hanno dimostrato, poi non dovevano dimostrare altro, dovevano dimostrare solo questo e questo hanno dimostrato, i gualdesi sanno fare questo.